Anna Tatangelo Anna Tatangelo compleanno senza Gigi, del cantante nessuna traccia Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si sono lasciati? Al compleanno di lei nessuna traccia del cantante. I rumors sulla fine della storia d'amore tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si stanno facendo sempre più insistenti. Nonostante le ultime dichiarazioni del cantante abbiano smentito categoricamente le voci sulla loro crisi, molti sono i dettagli emersi di recente che farebbero pensare il contrario. I fan di Anna Tatangelo hanno notato infatti che, sempre più spesso, la bella napoletana si è mostrata sui social sola e mai in compagnia del suo Gigi. . I video postati a Natale da lei su Instagram, inoltre, sembrerebbero confermare il distacco dei due, mai apparsi insieme durante queste feste. . Anna Tatangelo festeggia il suo compleanno, Gigi D'Alessio dov'è?. . Nell'ultimo video postato da Anna su Instagram quest'ultima ha condiviso con i suoi followers un momento della serata di ieri sera. La Tatangelo oggi compie 31 anni e, stando a quanto condiviso da lei, a farle ieri una sorpresa per il suo compleanno sarebbero stati proprio i suoi cari. . Allo scoccare della mezzanotte infatti questi si sarebbero presentati da lei con una torta piena di candeline, cantando tutti in coro tanti auguri a te. . Sebbene di spalle è possibile intravedere nel video il figlio di Anna, mentre di Gigi invece sembra non esserci traccia. . E forse questo un chiaro segno rivelatore?. . Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, nessuna crisi secondo il cantante. . Come accennato, recentemente era stato proprio Gigi a smentire le voci sulla presunta crisi tra lui e Anna. . La notizia, ha spiegato lui, sarebbe solo stata montata ad arte dai giornali di Gossi perché in casa d'Alessio Tatangelo tutto procede bene e senza problemi. . E' vero che, se così fesse, per festeggiare questo giorno insieme alla sua compagna il cantante è di fatto ancora in tempo. . I due, per esempio, potrebbero aver progettato di passare insieme la serata, soli e lontani dagli occhi indiscreti. .